A qualche giorno dalla pubblicazione del rapporto della Commissione Europea sulla Turchia, la questione cipriota torna forte alla ribalta. Mehmet Alitalat, dirigente dell'autoproclamata Repubblica Turco-Cipriota, riconosciuta solo dalla Turchia, ai microfoni di Euronews, ha spiegato la sua posizione sulla proposta della presidenza finlandese dell'Unione Europea. Il piano prevede la fine del blocco per il porto di Famagosta, situato nella Repubblica del Nord. Amministrato dall'Unione Europea, consentirebbe ai turco-ciprioti la ripresa del commercio con l'estero. Come controparte, l'Unione chiede che Varosha, periferia di Famagosta, venga posta sotto amministrazione ONU, consentendo il ritorno dei greco-ciprioti. La parte turca chiede ancora che l'aeroporto di Erjan venga riaperto ai voli internazionali. Qual è la sua reazione alla proposta finlandese? Accetta di dare Varosha in cambio dalla riapertura al commercio estero di Famagosta? Per noi è cruciale uscire dall'isolamento, ma non crediamo di doverlo barattare. Nel Consiglio europeo del 26 aprile del 2004 si è deciso di levare l'embargo economico ai turco-ciprioti, ma non si è fatto cenno a nessuna clausa do u des. Adesso, in cambio della fine dell'isolamento, ma solo per quanto riguarda gli scambi commerciali, attraverso il porto di Famagosta ci chiedono di lasciare Varosha alle Nazioni Unite. E' vero che siamo pronti a negoziare su Varosha solo nel caso di una soluzione globale, ma a queste condizioni Varosha non si tocca. Pensa che i profughi greco-ciprioti potranno tornare alle proprie case? Profughi? Si parla ancora di profughi, ma dopo più di 30 anni questa gente si è rifatto una vita. Non sono più profughi. E' vero anche che molti fra loro avranno la possibilità di tornare a casa. La zona meridionale greca sembra non voler accettare il traffico commerciale attraverso gli aeroporti turco-ciprioti. Cosa ne pensa? Noi chiediamo che l'accordo includa voli diretti dai nostri aeroporti ed escluda Varosha. voli diretti, aiuti finanziari e traffico commerciale regolato in base alle norme europee non fanno parte di un accordo globale, ma di una soluzione temporanea. Pertanto in questo momento per noi l'inclusione dell'aeroporto di Erjan, che consente di avere voli diretti, è importantissimo. E' una condizione imprescindibile? Non voglio usare parole come condizioni, precondizioni, ma è molto importante. La proposta finlandese, così com'è, non è equilibrata. Perché i militari turchi restano? Non vi sentite sicuri? Le faccio solo un esempio. Immaginiamo Cipro nell'Unione Europea e la Turchia fuori. In questa situazione i turco-ciprioti non si sentiranno sicuri. Mi riferisco all'attitudine ostile dei greco-ciprioti. Ancora adesso cercano di soffocare i turco-ciprioti qualsiasi cosa facciano. La presidenza tedesca dell'Unione Europea potrebbe forse riuscire a sbloccare la situazione di Cipro già l'anno prossimo. Che cosa propone? L'Unione Europea ha promesso la fine dell'isolamento per i turco-ciprioti. Se l'Unione manterrà il suo impegno, i turchi non esiteranno ad aprire i propri porti ai greco-ciprioti. Non vedi una possibilità per uscire dalla crisi? Il prossimo anno in Turchia ci saranno nuove elezioni e non sarà facile trovare un accordo su Cipro. Se non si riesce adesso, può darsi che per raggiungere un'intesa ci vogliano altri 10, forse 20 anni. Sì, è così, ma gli sforzi per trovare un compromesso non si fermeranno anche nei prossimi 10 anni. Non verrà meno l'impegno delle Nazioni Unite, che rappresenta l'unico contesto internazionale in grado di trovare una soluzione per Cipro. Non è possibile che questo processo non si fermi per 10 anni. Non verrà meno l'impegno delle Nazioni Unite. Non verrà meno l'impegno delle Nazioni Unite. Non verrà meno l'impegno delle Nazioni Unite.